Dov'è Alessandra? Oi! Che stai facendo? Niente Niente, qualcosa la stai facendo Mi sto vestendo Perché? Perché ho freddo Ti metti il cappotto in casa? No, sto uscendo Dove? Fuori Lo so che stai uscendo fuori perché non si può uscire dentro Fuori dove? Non lo so Andrea, ok? Sto uscendo, non ho voglia di stare qua Cioè è anche brutto che te ne vada Stavamo parlando Di cosa? Tu stai ascoltando Sigmund No, stiamo parlando tutti insieme No, a me non mi spiega niente Eh, ok, va bene E riesci a fare quello che vuoi però per favore Le parolacce no Le parolacce? Sì, le parolacce no Quale parolacce? Quella che hai appena detto Fregare E due Non dire parolacce che poi è un cattivo esempio Ma che cosa? Fregare vuol dire fregare, capito? Sfregare Vabbè, non me ne frega niente E tre Ascolta, fai così Vai, esci, fai quello che vuoi Perché qua stai dando il cattivo esempio Culo Vedi, hanno già cominciato Pisello Ecco sì Pisello lo puoi dire perché pisello non è una parolaccia È un eufemismo Eufemismo Ha un che di ornato, un che di romantico Culetto? Sì, culetto sì perché il vezzeggiato Culoni No Perché se trovo piccolo a pensare a ste cose Meloni 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 non lo so Angurie Cosa vuol dire angurie? No, forse angurie no Dove è Alessandra? Culettino Culo Cacca Pisello Certo? No